Il ciclo motore è avvenuto ieri sera. Due ragazzi rispettivamente di 17 e di 18 anni, entrambi alcamesi. Il passeggero dello scooter intorno all'una della scorsa notte, a seguito delle ferite riportate, in particolare lesioni interne all'addome, è stato trasferito in ambulanza al Troma Center di Villa Sofia a Palermo. Per tutti e due i giovani feriti, come si apprende la prognosi, è riservata. Secondo una ricostruzione fatta dalla Polizia Municipale di Alcamo che ha effettuato i rilievi nel luogo dell'incidente, sia lo scooter che l'autovettura stavano percorrendo la carreggiata a sud del Vial Europa. Il ciclo motore avrebbe, in fase di sorpasso, urtato la banda che stava per effettuare una manovra di svolta a sinistra per rimettersi nel varco della via Benedetto Croce. Sono tuttora in corso approfondimenti per chiarire del tutto la dinamica dell'incidente. L'incrocio in cui è avvenuto lo scontro tra i due veicoli si rivela ancora una volta uno dei punti più pericolosi, in particolare per quanto riguarda il Viale Europa. Proprio in quel punto, purtroppo già in passato, si erano verificati altri gravi incidenti, anche con conseguenze nefaste. Tra l'altro la presenza della pista ciclabile, anche lungo questo tratto del Viale Europa, chiama tutti alla massima attenzione e prudenza. Proprio qui nel Viale Europa, all'incrocio con la via Benedetto Croce, oggi sono in corso degli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale. Vedete alle mie spalle gli addetti a questi interventi. La via Benedetto Croce, all'incrocio con il Viale Europa, rappresenta uno dei punti più pericolosi del tessuto viario urbano. Bisogna porre massima attenzione, come dicevo Puganzi, al fatto che qui è presente anche la pista ciclabile. Senza dimenticare che purtroppo c'è la pessima abitudine da parte di non pochi di non rispettare le elementari norme del codice della strada, anche per quanto riguarda i sensi di marcia da seguire per evitare incidenti. Nel frattempo, come possiamo notare, qui occorre ritinteggiare la pista ciclabile, ma soprattutto le strisce pedonali. Come apprendiamo, gli interventi di rifacimento delle strisce pedonali dovranno essere effettuati in un secondo momento rispetto agli interventi che sono in esecuzione questa mattina e quindi dovranno trascorrere da quello che abbiamo capito ancora diversi giorni, comunque aspettiamo conferme di questo. Certamente qui sono molto sbiadite le strisce pedonali, come vediamo. Qui sono addirittura assenti in quest'altro tratto di carreggiata del Viale Europa e proprio qui si trovano importanti istituti scolastici. Vedete qui l'edificio del liceo Vito Fazio Almeier. Ecco, vedete anche queste altre strisce pedonali. Qui si troviamo sempre all'incrocio con la via Benedetto Croce. E qui tantissimi studenti pendolari quotidianamente percorrono questi tratti di strada così importanti per poter raggiungere le fermate degli autobus. Senza entrare nello specifico della causa e della dinamica dell'incidente della scorsa notte, effettivamente in generale possiamo dire che quindi qui non tutti si attengono quindi alle norme del codice stradale. Effettivamente saranno gli inquirenti poi a stabilire cause dinamiche degli incidenti ed effettive responsabilità. Ma occorre, ripeto, in generale fare molta attenzione a questi incroci e non soltanto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.